Ragazzi vi ricordo il link di Instant Gaming per supportare il canale e trovare giochi a prezzi scontatissimi, trovate il link qui sotto in descrizione al video. Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, finalmente torniamo su FIFA e come torniamo su FIFA con una carriera giocatore ragazzi, che è davvero qualcosa di devastante perché, caspita, non la facevo da parecchio tempo. Carriera giocatore che viene sempre cagata poco, ma cosa faremo noi? Intanto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di attivare la campanella, soprattutto per non perdervi nemmeno un video della carriera. E stanno iniziando tantissime carriere sul canale, quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Carriere giocatore devastanti con sport che anche a volte vengono cagati poco, ma sul mio canale troverete molte carriere giocatore. Cosa davvero importante è che partiremo un po' come Zlatan. Il fatto però è che Zlatan non partì effettivamente dalla squadra in cui andrò io adesso, cioè il Malmo, ma partì da una squadra sempre di Malmo, ma ancora più piccola. Infatti questa squadra dovrebbe chiamarsi FC Rosengard e quando ci giocava Zlatan si chiamava Malmo IB, qualcosa di al genere. Poi lui passò al Malmo vero e proprio, quello che conosciamo attuale e quello dove andremo a giocare, ma più avanti. All'inizio giocava in questo Malmo, nella città di Malmo, Rosengard. Mentre io creo il personaggio, ragazzi, voi potete lasciare un bel like e farmi sapere nei commenti se vi piace questa idea. Anche perché partiremo dal campionato svedese e quindi, cioè, dobbiamo fare un botto di gol poi per farci acquistare da squadre più forti. Quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione. Poi vorrei anche sapere, appunto, cosa ne pensate del canale che sta riprendendo con questi sportivi. Fate passaparola, ragazzi, che è molto importante. Parlate nei vostri amici se vi piace questa idea di tantissimi sport, tantissime carriere. Con me, ovviamente, sul mio canale. Secondo me 80 bambini, raga. No, dai, 75, dai. Perché comunque deve essere anche abbastanza prestante. Non posso abbassarlo troppo, perché se no, non regge l'idea. Quindi, ragazzi, ecco qua il giocatore finalizzato. 181, 78 kg. Mi sembra abbastanza buono. Mi sembra abbastanza forte. Sembra un po', appunto, come dicevamo, il Larsson. I primi Larsson. Però, ovviamente, sembra un po' più aggressive questo, dai. Quindi, Svezia, Malmo. Andiamo. Poi, qua, ovviamente, metto leggenda, perché se metto estrema, 5 minuti, le squadre avversarie fanno solo tiki-taka. E 5 minuti passano a vedere solo loro che girano palla, quindi è inutile. Poi io controllerò solo Miracle, quindi non controllerò l'intera squadra. Poi avremo anche finestre di mercato, quindi capiterà che vedremo giocatori in altre squadre. Non ci saranno le squadre attuali, quindi ci sarà la finestra di mercato anche per loro. Pensate che a me una volta è capitato. Oh, guardatelo. Opla, opla, opla. Miracle pronto a diventare uno dei giocatori più importanti. Il 18enne ne ho acquisto, però credo che faremo 19 anni subito, perché il compleanno l'ho messo come il mio, 4 gennaio, quindi. Allora, vediamo un po'. Quando Thomason mi ha proposto il contratto non ho potuto dire di no, non capita tutti i giorni di poter lavorare con un gruppo di ragazzi così in camba, ha dichiarato alle Miracle. Molto importante questa cosa qui, adesso Miracle non vede l'ora di farsi strada anche nella nazionale italiana, come possiamo vedere da questo messaggio. Però fissati i primi impegni, noi non faremo il torneino amichevole perché non ce ne frega niente, andremo direttamente alla Coppa. Perché in Svezia, in Svezia, si parte subito dalle coppettine, quindi qua ci sono le varie amichevoli che non faremo e andremo direttamente in Coppa dove nel giro noi ci siamo beccati il Sirius, poi l'Ik e il Nord Copping, perfetto, proprio faciline. Però dovremmo farcela e poi si inizia con il campionato ragazzi. Rischiamo un po' di neve, un po' di tempo veramente rigido da settembre in poi, però loro dovrebbero fare il pausone poi se non sbaglio. Infatti giocano il 5 dicembre e poi chi si è visto si è visto fino alla stagione dopo. Dobbiamo lavorare alla stragrande. Ragazzi mi fa giocare, siamo in Svezia, potrebbe esserci anche a febbraio comunque un clima abbastanza rigidino, quindi andiamo, leggenda 5 minuti e si va. E si va ragazzi, per l'esordio di Miracleman in una partita ufficiale. Ecco il Sirius che arriva. Ed eccoci qua, clima, nevischio e quindi corretto per ora. Il nostro Miracleman 182 centimetri di bontà e purezza, credo. 181-182, non mi ricordo più. Guardate le linee del campo, attenzione perché subito Miracleman vuole la palla in un corridoio filtrante. E' importantissimo, Miracleman! Sta bestemmiando provato. Cos'è che ha detto? Avrà detto porca di quella puzzola indelebile. Però il pallone non è arancione o giallo, eh? Cioè se dobbiamo fare le cose per la neve facciamole bene, signor Sveden. Attenzione, il cross in mezzo è proprio per Miracle che ci prova. Niente da fare, sicuramente c'è molto da migliorare. Si vuole il cross in mezzo, c'è Miracleman! Cavoli, se passavero da solo! Mi sto smarcando molto bene, anche nel Pro Club. Devo dire che non gioco malino come punta, eh? Perché mi smarco abbastanza. Dai, 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 ripartenza, dai ragazzi! Bravo, così ti voglio, aggressivo. Vai Fra, vai Fra, allarghiamola, bravo! Ora! Oh cavoli, oh cavoli! La palla per Miracleman non può sbagliare! E non sbaglia! Prima partita ufficiale! E' primo gol di Miracleman! Prima partita ufficiale! E' primo gol! Che smarcazza nel passaggio! Mamma mia, eccolo qua! Inizia subito così! Vuole farsi vedere! Ed è il campionato buono! Buono quel lavoro, attenzione! Ancora Miracleman, ancora che si destreggia! Non è fuori gioco, eh! Ragazzi, come mi muovo sulle linee, ragazzi, è incredibile! Ancora Miracleman, stavolta la saffreggia! Il palo! Ecco, altro muovo! Qua abbiamo esagerato! Qua abbiamo voluto fare i fighi! Ma funziona! Oh! Oh! Tira! Buona, ragazzi, buona! Però devi... Bravo! Prima devi fare le ste robe, però! Prova ad entrare! Non mi fanno entrare, ovviamente! Oh, buona! Dai! Carcatrota è fuori gioco! Non è fuori gioco? Gol! Attenzione! Calma, calma che ci penso io! Doppietta! Sono un po' indeciso! Var! Raga, era fuori gioco? E chi è che m'ha tenuto? Questa sarebbe dare play, però, per capire! Ma che golettino! Vedete il suo piede? Eh, sì! Sta tenendo il piede all'indietro, raga! Attenzione! Porca trota! Ci stava, eh! Ci stava tantissimo, in realtà! Peccato! Peccato perché fare un gol al volo così sarebbe stato figo! Però! Però, ragazzi! 2-0 Due gol importanti Per il nostro Miracle Non ci sono parole Per adesso Per questo esordio di stagione Ma devono mettere anche la palla, però Che bello, raga! Campionato bellissimo da scegliere Anche per queste condizioni Oh, la palla! Gialla! Arancione! Che so! Attenzione, Miracle Man! Qua proviamo a giocarcela Nonostante non si veda nulla Meno male che abbiamo messo a meno gli scarpini Ancora in malmo in avanti Chiediamo palla Proviamo a darla di tacco verso il nostro collega Non ce la facciamo, l'allarghiamo Attenzione! C'è una serie di passaggi importanti Miracle Pallo di Pecchè! Gol! Sì! Però il palo, raga! Dai! Per ora siamo abbastanza fortunati Non riesco per ora ad utilizzare la telecamera Quella lì della carriera Quella lì predefinita Perché Non predefinita Quella professionale Credo si chiami Perché davvero poi Mi viene da vomitare Ovviamente l'EK Non è una squadra di cacca E quindi Sta giocando molto bene Però noi adesso proviamo a ripartire Adesso Miracle prova l'appoggio Dai che ripartiamo Dai lanciami ora! Bella! Non è male come idea Buona Dai! Oh! Oh! Tor! Mamma mia che passaggino Per Miracle Che si fa vedere molto bene Se l'allunga abbastanza bene Adesso deve cercare di giocarsela con i compagni Ce l'ha fatto Carl Oh! Arbitro! Ma mi ha buttato per terra Vai! Bello tira! Sei! Dai! Ora possiamo tranquillamente andare in panchina Possiamo tranquillamente andare in panchina Possiamo fareci fare la sostituzione Così almeno siamo tranquilli anche noi 2-0 Ci riposiamo per la prossima E giochiamo tranquilli Dai! Quarti di finale con il Falkenberg Quindi la coppa si fa tutta subito È incredibile Ma non mi fa di nuovo giocare Oh! Abbiamo perso i rigori Ma mister! Allora! No ragazzi Sono preso male Ma cosa mi ha inserito nella formazione titolare? Mister Doveva farlo in coppa Non adesso Buono! Finalmente c'è bel tempo ragazzi E giocheremo anche col pallone ufficiale Dai! Pallone ufficiale del campionato svedese Però porca miseria mister Dai! 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 Spero davvero di riuscire a far gol In questa prima di campionato Per esordire in campionato con un gollettino Ma andrebbe bene anche l'assist Ma invece no Ci facciamo vedere molto bene Oh! Non era male come idea Attenzione Miracle Non me la dovevi dare subito Fra però Vai vai dentro vai tu Bra! Sì! Uno A zero Attenzione Miracle Mella stoppa molto bene Poi si gira verso i compagni Vuole il compagno più in fondo E fa bene Adesso la palla è ancora per lui C'è una buona gestione di palle I compagni si fidano C'è felicità nel gameplay Oh! Esordio col gol Ma perché non mi fa fare l'esultanza? Ogni volta che faccio l'esultanza mi scatta Pum! Questo gli permette di non affrettare Che cattiveria Che cattiveria Se la gestisce Prova a fare qualche numero Il passaggio è molto buono Palla ancora per lui Che la gest... Attenzione! Attenzione perché stiamo facendo cose Stiamo facendo cose Stiamo facendo cose Non solo come finalizzatore Non solo come finalizzatore Attenzione il tocco dietro Christian Senna Proviamo ancora ad entrare Ma non voglio rischiare passaggi stupidi Quindi tendo a fermarmi un attimo E a capire E infatti eccolo qua Ancora palla mia Ancora ti... Che sarrigna! Che violenza! Contentissimo Lui abbiamo creato qualcosa di... Di abominevole ragazzi Guardate qua Il tocco La riceve di nuovo Stop e tiro! Ma che è? Buona questa raga Bellissimo sto passaggio Vado da costrui Perché gliel'ha data così? Oh! L'ho messo a terra L'ho messo a terra con la finta Tripletta E calma calma Ci penso io a farvi vincere il campionato Dice Miracleman eh Guardate qua La finta lo mette a terra Porca miseria Che gol Possiamo apprezzare meglio il gol Che gol Ma chi è? Guardate Miracle come se la gioco Un paio di finte E vabbè poi No 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 Non è credibile Oh Peccato perché Toivonen Non riesce a passare Ma la riprendiamo noi Proviamo a giocarcela con calma Il passaggio dentro Attenzione Nooo Potete tirare Raga ma che sta succedendo Ma che sta succedendo Ma che sta succedendo Ma che sta succedendo Probabilmente quando andiamo a giocare con le squadre deboli del campionato C'è davvero troppa differenza Fischia che è la partita del pregio Questa mamma mia come se la gioca Dai Che partita Che partita Si porta a casa la palla 5 tentativi in porta 3 gol Forse uno dei protagonisti Potrebbe essere il nuovo Holland Dal quantitativo di gol E poi dalla voglia magari di un Borussia Dortmund Di una squadra che dice io punto su sto ragazzo Perché comunque statisticamente è molto buono Bisognerà vedere Bisognerà vedere come finirà questa stagione Ma è partita molto molto bene Abbiamo sicuramente Due partite giocate 5 gol 2 assist Siamo già in un'ottima situazione Perché se andiamo a vedere qui gli obiettivi che ci aveva chiesto il mister Siamo Wow Ma scusate ma quindi da leggenda devo passare a quell'altra A quella lì supersonica Non lo so proviamo Proviamo perché Non so Estrema Proviamo estrema Vediamo quanto può essere Però ho paura che tengano palla troppo gli avversari Quando andiamo a giocare contro squadre forti È così Adesso stiamo giocando contro squadre comunque deboli Secondo me è sbagliato Metterla Però Proviamo Proviamo No 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 Perché non è giusto Perché poi quando andiamo a giocare con il Bayern Monaco Lasciamo così Lasciamo così Leggenda secondo me è giusta Poi è ovvio che se noi siamo bravi Fatemi sapere cosa ne pensate Bene ragazzi io direi che come primo episodio è stato abbastanza corposo Di solito faccio dei primi episodi dove si fa la creazione del personaggio La prima partita E poi dopo iniziamo con gli episodi corposi Invece devo dire che questo episodio è stato veramente bello Pieno di cose Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Di questa nuova stagione Partita col Malmo Dobbiamo assolutamente fare bene Dobbiamo assolutamente fare un ottimo campionato E secondo me le possibilità anche di vincerlo sono tantissime Ma anche di vincere la classifica Ganonieri Questo potrebbe essere un incentivo in più Per poi essere acquistati da qualche squadra Fatemi sapere cosa ne pensate Cosa pensate anche del futuro di questo ragazzo Dove potrebbe andare a giocare Dove lo vedete bene Come giocatore Come fisico Fatemi sapere tutto nei commenti Tanti like Fatemi sapere se siete contenti di queste carriere Che stiamo iniziando Un abbraccio Un bacione Al prossimo video E iscrivetevi Iscrizione e campanella Al prossimo video